ciao ragazzi sono ritornato con un nuovo video e andiamo ad aprire questi pacchettini ho fatto qualche pacchettino per voi anche un eroe fut se non mi sbaglio se questo lo apriamo per l'ultimo mi raccomando lasciate un mi piace iscrivetevi se non avete ancora fatto abbiamo anche questi pacchetti nuovi degli mondiali quindi direi che possiamo iniziare 80 più risco 82 bene 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 ma non benissimo ok nessun doppione va perfetto va perfetto poi pacchetto misti giocatori misti argento tutti questi li mandiamo al club alla lista trasferimenti perché non mi interessano più di tanto quindi li andiamo a vendere oro raro madonna mia stis sergio labrusca 85 ok ok salviamo tutto benissimo quindi un 85 contiene sei giocatori dei mondiali più si è da personalizzare vediamo un po francia cc di lei mar che non fossero perché ho già quello road to knock out qualcosa del genere va bene niente di importante 75 superiore 5 giocatori dei mondiali vediamolo messico messico himenez ok ok questi li mandiamo al club ok sono massi tutti scambiabili più il giocatore eroe foot hand drag key questo è il doppione sicuramente come non detto come non detto 1 2 giocatori fifa world cap mmm già deron niente di che niente di che non mi vuole dare walk out stasera non mi vuole dare walk out stasera mi chitariano 81 81 ok tanta roba vabbè real madrid forever quindi lo scartiamo 1 o 2 giocatori world cap dire non ne farò niente di lui ma chi lo sa il prossimo dai uuuh cavani che non ha squadra ok simione e christensen ok l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto madami cantè se francia ci dici vediamo sti giocatori uuuuh un qq86 vabbè giustamente per 56 giorni non mi ricordo se vabbè w86 non utilizzabile e qui vediamo il nostro eroe foot chi sarà chi sarà chi sarà lui gomez ok gomez 88 ok un bel super sub quanto costa così più o meno come mezzo una 30k non un gran che mh devo dare velocità e passaggio corto vabbè ragazzi questo è stato il video io vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo quanto più presto con un prossimo ciao ciao non 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 Grazie.